Siamo in crescita nella sede di Bocadasse come a Lanterna Taekwondo, settimana scorsa abbiamo organizzato l'evento più importante della nostra stagione che è il trofeo privato, il trofeo Lanterna, con 430 bimbi in gara. Siamo in crescita, siamo molto molto contenti. Che 2017 sarà per voi dal punto di vista sportivo? A livello di agonismo stiamo entrando nella fase cruciale, il mese prossimo a Pesaro abbiamo campionato italiani cadetti con due ragazzi iscritti dove speriamo di poterci avvicinare il più possibile al podio. Non solo ha tanto impegno sul tatami ma anche al di fuori con tante gare organizzate nel corso dell'anno dalla vostra società? Direi di sì, a parte le responsabilità come direzione gare in Liguria e in Toscana, adesso si prospetta un 5 settimane in giro per l'Italia a portare ragazzi e gestire le gare, impegnativo ma divertente. Ci puoi dire qualche nome? Nominerei due ragazzi che fanno l'italiano il mese prossimo, sono del 2003, sono Francesco Bottino e Daniele Manzo. Insomma, a breve puntiamo su di loro.